Sconti nei negozi per chi assiste agli spettacoli teatrali ad Alto Pascio. Questa è l'iniziativa presentata al Teatro Puccini, promossa dal Comune insieme ai centri commerciali naturali di Alto Pascio e Spianate e ai commercianti di Badia Pozzeveri e Marginone, dove sarà possibile usufruire degli sconti. Cultura e commercio si sostengono a vicenda, questo è il senso dell'operazione, che prevede sconti consistenti per chi farà l'abbonamento alla stagione teatrale. Ad ogni abbonato gli viene consegnata una card, un voucher chiamato oro. Con ogni voucher oro l'abbonato ha diritto allo sconto del 20% in tutte le attività aderenti, che sono circa 35 nel territorio, per 8 acquisti possibili in ogni attività. Questo vuol dire che tendenzialmente possiamo anche raggiungere i circa 300 sconti che ogni abbonato può avere nell'arco temporale di quasi un anno, perché questo voucher oro scade il 30 settembre 2023. Ci sarà anche un voucher argento per chi non farà l'abbonamento ma assisterà ad un singolo spettacolo. In questo caso lo sconto sarà del 10% per l'acquisto di un prodotto. In ogni caso i commercianti puntano sul fatto che a teatro ad Alto Pascio arriveranno spettatori anche dai comuni limitrofi. Possiamo incentivare e allargare la nostra rete commerciale e promuovere così il nostro territorio. A Alto Pascio la vita sociale è importante, cerchiamo di tenere i nostri piccoli negozi aperti per mantenere un punto di ritrovo e di socializzazione che vada oltre il mero incasso di un negozio. Le attività che aderiscono all'iniziativa sono una quarantina tra Alto Pascio Capoluogo e le frazioni.